Un saluto a tutti da parte di Maria e un ringraziamento particolare per la fiducia che costantemente confermate con la vostra presenza ai miei programmi. Vi ricordo che ricevo privatamente nel mio studio a Campogagliano di Modena raggiungibilissimo tramite l'autostrada, telefonando sempre per appuntamento al 339 49 76 351, ripeto 339 49 76 351, così farete un consulto approfondito ed accurato in base alle vostre esigenze. Per voi che siete impossibilitati a venire in studio, telefonate sempre con fiducia al 339 49 76 351. Vi dirò come contattarvi sempre privatamente per fare un consulto telefonico a distanza e il risultato finale non cambia. Vi ricordo che parlerete sempre esclusivamente con me e sono riperibile tutti i giorni, dalle 8 di mattina alle 22 di sera, sempre al 339 49 76 351 per informazioni chiaramente sul mio lavoro. Maria, oltre al lavoro di cartomanzia, vi ricorda che è insegnante di Reiki e di Karuna Reiki. Con i suoi livelli di Master e con i suoi percorsi spirituali è riuscita ad essere sempre più vicina a voi come amica di fiducia e come consigliera. Vi ricordo che tengo anche corsi individuali di cartomanzia di arcani maggiori e arcani minori e per informazioni chiama sempre con fiducia al 339 49 76 351 e ti aiuterò a scoprire il percorso ma soprattutto il significato dei tarocchi. A fine corso ti verrà rilasciato un attestato di frequenza. Chiama tranquillamente con fiducia al 339 49 76 351 e troverai un'amica pronta ad ascoltarti, un'ottima consigliera pronta ad aiutarti e a dare una risposta di luce ad ogni tua domanda. Ciao da Maria. Grazie Grazie